Per la sfida di questa sera contro il Foggia, fischio d'inizio alle 20.45 allo Zaccheria, Michele Pazienza partirà dalle certezze acquisite sabato sera contro la capolista. L'Avellino sa di poter continuare un percorso e per farlo deve basarsi sulle garanzie. L'assetto arretrato sicuramente lo è, per cui Cancellotti, Rigione e Cionec assolutamente non si toccano. Difficile vedere grandi cambiamenti anche a centrocampo. Tito e Ricciardi domineranno rispettivamente la fascia sinistra e quella destra ed affiancheranno Armellino e De Cristofaro che ormai è titolare inamovibile dello scacchiere bianco-verde. Anche Palmiero, seppur discontinuo, dovrebbe scendere in campo ed alternarsi a partita in corso con il rientrante Lores Varela. In avanti gioco forza cambieranno gli asset. Patierno, come è noto, non ci sarà a causa della squalifica. Al suo posto scenderà in campo Gabriele Gori che scalpita per tornare protagonista. La partita sarà di quelle insidiose. L'Avellino non avrà sugli spalti la protezione del pubblico e si ritroverà certamente in una condizione ambientale sfavorevole. Pazienza, che conosce bene il contesto, lo sa prima di tutti ed avrà mentalizzato i suoi per affrontare una partita importante, complessa ma da portare assolutamente a casa.